benvenuti ragazzi nuovamente a pizzichettone vi faccio una ripresa di quello che c'è, c'è poca roba stavolta però volevo svolgere le commissioni e sono passato nel negozio anche perché dovevo fare degli acquisti un po di cose vi farò vedere anche gli animali che ho acquistato video girato verticalmente come solito però ecco così non si vede comunque vi lascio il video buona visione ok canarini mosaico spoiler spoiler questa tipologia di canarino si conosce max di femmina no ciao ciao è l'ultima ecco colite ragazzi quelle che c'erano di la gabbietta che le ho messe qua ora non le vedo perché ho il sole con te però sappiate che sono qua è arrivata anche la nuova femmina che non me la scappata ecco lì il mio acquisto di pizzichettone femmina giallo mosaico per maschio bianco ho fatto anche un'altra coppia che ha un maschio bronzo che mi sembra sia questo sì questo è una femmina che è nata a me dello scorso anno che era qua insieme ai maschi l'ho fatta sessare più volte mi hanno sempre detto che era un maschio allora l'ho messo insieme ai maschi però poi mi sono accorto che si imboccava con un altro quello di scuro no dov'è uno scuro comunque uno scuro e però la sua va allora ho deciso di fare un'altra coppia che non sono anche la partita